Ori eccoci, sebbene oggi sia stato il Coppomainers Day con Juventus che questa mattina ha completato l'acquisto del forte centrompista olandese dall'Atalanta, il tifoso juventino è già oltre perché si pensa sempre a cosa si deve fare. Io tendo a sposarla, questa filosofia fa anche capire come la Juventus sia diversa dalle altre società da questo punto di vista e non solo. E quindi il tifoso inizia a fare domande su domande su domande, legittimissime, che fanno parte anche un po' del timing perché siamo al 27, il mercato in entrata chiude venerdì a mezzanotte e la Juve ha ancora diverse cose da fare, soprattutto in uscita. Ecco, partiamo da qui. Oggi la Juve ha definito due partenze, direi quasi tre. Sicuramente Facundo lascia i bianconeri, va al Feyenoord con la formula del prestito neroso basso con obbligo di riscatto al verificarsi determinate condizioni, più percentuale sulla futura rivendita attorno appunto al 20%. La Juve ha accettato la proposta del club olandese e quindi Facundo va in aeree divise. Devo dire che pensavo onestamente che Facundo potesse rimanere in Italia, in Serie A. Un pochettino mi sorprende che la Juventus decida, no? Ammetta in preventivo di poterlo perdere a titolo definitivo al termine della stagione 2024-2025, si possono fare due fotografie. La prima è che banalmente la Juventus non ritiene che Facundo possa fare un certo tipo di percorso con Tiago Motta, che ha avuto modo di allenarlo. Noi Facundo l'abbiamo visto a Norimberga, se non sbaglio coppia centrale Tiago Jalò-Facundo, entrambi bocciati verosimilmente. Oppure l'altra fotografia che possiamo effettuare è che la Juventus da qualche parte ha bisogno sempre del soldino qui, soldino lì, e inizia anche a progettare ciò che porterà a casa nell'estate del 2025. Perché ci sono delle operazioni che magari qualcuno ha dimenticato, ogni riferimento ad esempio a Rovella e Luca Pellegrini è puramente voluto, giocatori che si erano trasferiti la scorsa estate alla Lazio in prestito biennale con obbligo. Non lo so, tra l'altro Facundo ho avuto modo di vederlo più volte nella passata stagione, a un certo punto ho guardato tante partite della Samp proprio per vedere se il difensore uruguayano potesse fare al caso nostro, e aveva iniziato a fare delle belle partite con Andrea Pirlo, però evidentemente la Juventus, valutandolo anche a Erzocenaura, che in generale nel precampionato non ha visto o nulla di speciale o in generale una prospettiva che potesse dire, sai che c'è, su questo ragazzo continuiamo a lavorare. Va al Feyenoord e lui facciamo un grosso in bocca al lupo. Anche Muaremovic lascia la Juventus, qui invece si dava per scontato quasi che dovesse andare al Genoa, nell'ambito di uno scambio o degli ottimi rapporti, vedi il prestito secco di Fabio Miretti, ma alla fine il difensore va al sassuolo. Subito ho letto i commenti sui social, ma perché diamo un giocatore al sassuolo? È giusto che ognuno poi esprima il suo punto di vista, sul famoso asse sassuolo-Milano-nerazzurra, ma a noi non interessa e Muaremovic va in prestito con diritto, quindi se il ragazzo dovesse far bene il club nero-verde ha la possibilità anche per lui di acquisire le sue prestazioni a titolo definitivo. E poi c'è un'altra partenza in rampa di lancio, questa è una partenza doverosa perché è ora di mettere la parola fine, e mi riferisco al passaggio di Mattia De Sciglio all'Empoli. Ora sapete perfettamente come De Sciglio abbia ancora un anno di contratto, un contratto fuori portata per l'Empoli. L'Empoli ha chiesto alla Juventus per quest'ultimo anno di contratto di dare un contributo attorno al 40-50% del pagamento dello stipendio. Si sta trattando, sicuramente l'Empoli non si accollerà tutta l'ultimo anno di contratto, e quindi adesso non so quale sarà il tecnicismo se magari De Sciglio passa titolo gratuito all'Empoli e la Juventus quindi contribuisce a pagare quest'ultimo anno di contratto, se De Sciglio risolve il contratto con la Juventus si prende l'incentivo all'Esodo e poi va a firmare per l'Empoli. Credo che le uniche due soluzioni siano queste, sicuramente la Juventus dovrà riconoscere qualcosa a De Sciglio, però c'è la sensazione che questa trattativa si possa chiudere perché l'Empoli è l'unico club in questa fase finale ad aver mostrato un certo tipo di interesse a prendere Mattia, che magari potrebbe anche decidere di abbassare il livello di ambizione, di andare in una squadra che è partita molto bene, proviene dall'Exploit all'Olimpico con la Roma, ma speriamo di imitare gli azzurri proprio contro i giallorossi. Il prossimo impegno è la prima che hanno fatto, aiutatemi voi, non credo abbiano pareggiato, quindi parliamo di quattro punti in due partite. Magari De Sciglio lì può costruire la parte finale della sua carriera. Quindi Facundo Feynord fatta, Moremovic Sassuolo fatta, De Sciglio Empoli quasi fatta. In molti mi state chiedendo anche di Asa, sì mi risulta che la Juve stia parlando con il Frosinone, però c'è una cessione a titolo definitivo, più una corposa percentuale sulla futura rivendita, perché come ben sapete Asa va in scadenza il 30 giugno 2025, e fin qui non abbiamo mai avuto onestamente da mesi segnali di rinnovo. Qualcuno crea anche retropensieri, perché la gente di Asa è Fali Ramadani, e anche la gente dello stesso Federico Chiesa, a tal proposito ragazzi, vediamo cosa succede, lo abbiamo detto in tutte le salse, non è un discorso economico tra Juve e Barca, tra Barca e Chiesa, è un problema proprio di liste, poter registrare i calciatori, e Chiesa non è che può aspettare in eterno, aspetta, 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 e poi non si sviluppano margini, deve prendere in esame altre possibilità, vedi Liverpool, ora anche qui vediamo se il Liverpool formulerà un'offerta ufficiale alla Juve, credo che per non generare minusvalenza, considerando anche gli stipendi pagati di giugno e luglio, la Juve debba portare a casa 11,9 milioni, per non generare appunto questa minusvalenza a bilancio, quindi ci sta a partire una richiesta di 15, per poi fare in modo che il calciatore non vada via a parametro zero, e al tempo stesso liberarsi di un ingaggio importante. Capitolo Sancio Sancio, ormai per noi quasi un'ossessione, perché il tifoso gli ha preso Copp Maners, ma chi se ne frega ormai, parlami di Sancio Romeo, dici di Sancio. Allora, che il Chelsea stia parlando con lo United è una notizia, concedetemelo, perché credo che sono 48 ore, no? Che sappiamo che il Chelsea comunque con il Manchester United sta provando a studiare uno scambio con qualche esubero, ha chiesto informazioni e è in contatto con lo stesso entourage del giocatore. Io non so quello che fa il Chelsea, so o meglio, proviamo con grande umiltà, ma con molta dedizione giornalistica, a capire l'umore della Juve. E la Juve anche oggi ha parlato sia con il Manchester United sia con l'entourage di Sancio, quindi cosa significa? Che la Juventus sta provando a prendere Sancio, indipendentemente poi da quello che accadrà o non accadrà con Federico Chiesa. Ora, la Juve per Sancio non può fare un'operazione a titolo definitivo, e quindi scartiamo già queste ipotesi. La Juve cosa vorrebbe fare? Un prestito oneroso con diritto, più lo United a contribuire a pagamento dell'ingaggio, perché Sancio guadagna circa 9 milioni netti. Ora, a livello di Manchester United è ovvio, è ovvio a livello aziendale, che prima di accettare una proposta simile vai a cercare di esplorare altre soluzioni, perché se hai la possibilità banalmente di scambiare Sancio a 40 milioni, cioè di dire Sancio vale 40, tu mi dai Caio, lo valutiamo 40, è normale che lo United cerchi di risolvere definitivamente la storia Sancio. Poi però devono accadere tante cose, cioè che il Chelsea faccia spazio, che trovi l'accordo totale con Sancio, che lo United poi decida di trovare il giocatore giusto dal Chelsea e fare l'accordo anche con lui. Quindi non è così scontato, ma di sicuro Juventus continua a lavorare su questa traccia. Continua a lavorare perché vuole giocarsi le sue carte, poi giocarsi le sue carte, come già vi ho detto miliardi di volte, non significa portare automaticamente il calciatore a Torino. Vediamo cosa succede. Senza essere ossessionati da questa traccia, capisco che prendere Sancio intrigherebbe ulteriormente un popolo già scatenato e decisamente entusiasta di questo avvio juventino, noi dobbiamo fare cronaca. E la cronaca ci dice che al netto dei contatti che sta avendo il Chelsea ci sono anche quelli della Juventus, sia con lo United e sia con l'entraggio del giocatore. E la Juve, vi ribadisco, prenderebbe Sancio in presito con diritto e più ovviamente affidandosi allo United in una parte del pagamento dello stesso ingaggio. Come finirà? Non lo so, lo racconteremo. Intanto però iscrivetevi al mio canale, attivate la campagna delle notifiche e lasciate un bel like.